La notizia era arrivata già con la visita di Tajani a Pescara durante il congresso di Forza Italia con l'impegno di portare il G7 a Pescara. L'importante notizia arriva ed è confermata dalla Farnesina per il G7. Sì, ieri la Farnesina ha confermato che a Pescara si svolgerà il G7 nel tardo autunno di quest'anno. È una notizia eccezionale per noi perché Pescara non aveva mai avuto una vetrina internazionale come questa. Verranno i sette ministri dello sviluppo economico per parlare di sviluppo economico del mondo. Ci sarà anche il Premier, quindi sarà un momento importantissimo per la nostra città, soprattutto per mettersi in mostra, ma credo che lo sia per tutto il nostro territorio pescarese ed abruzzese. Sono certo che faremo una bellissima figura, parleremo dei problemi del mondo con i ministri più importanti del nostro pianeta, ma nello stesso tempo faremo vedere anche le bellezze della nostra terra.